Buonasera a tutti, questa sera vorrei parlarvi di un argomento che non ha nulla a che vedere in come concreto con le patologie, ma è molto legato alle nostre patologie e adesso vi spiego il perché. Vorrei parlarvi della farmacia dei servizi. Essere farmacista vuol dire praticamente lavorare nella casa della salute e tenere la guardia alta su tutte le patologie e tenere monitorato cosa fanno i nostri pazienti, se seguono bene la terapia o no, perché è molto importante. La farmacia dei servizi nasce praticamente come decreto per agevolare la popolazione, la cittadinanza che è anche in posti disagiati nei piccoli comuni ad avere praticamente dei servizi sotto casa perché la farmacia ha il vantaggio di essere capillarmente distribuita su tutto il territorio. Abbiamo farmacie anche in paesi di 300 abitanti come abbiamo farmacie nelle città, quindi la persona che abita in cima al cocuzzolo della montagna deve avere gli stessi servizi della persona che abita in centro a Milano. Quindi paradossalmente la farmacia dei servizi ha portato un vantaggio proprio a tutta la popolazione. Vi faccio un esempio di tutti i servizi che possono fare le farmacie. Allora cominciamo con le analisi di prima istanza, quindi le analisi che prima eravate obbligati ad andare in laboratorio oppure ad andare in ospedale e magari siete a 20, 30, 50 chilometri di distanza dal primo ospedale. Ora potete rivolgervi alla vostra farmacia di fiducia, vi fissate l'appuntamento e per le analisi di prima istanza che sono colesterolo totale, HDL, quello buono, quello cattivo, i trigliceridi, la glicemia, potete fare le analisi semplicemente in farmacia comodamente sotto casa. Stessa cosa per l'elettrocardiogramma. Chi non deve fare per esempio un rinnovo della patente serve un elettrocardiogramma oppure devo andare in palestra mi chiedono un elettrocardiogramma. Io devo prendere sicuramente appuntamento ma è molto più facile sia per la vicinanza che per l'orario di attività, di ore lavorative della farmacia fare un elettrocardiogramma in farmacia. In una colpo solo faccio l'elettrocardiogramma e ho l'esito, mentre se devo recarmi in ospedale nulla a togliere al servizio dell'ospedale ma cosa faccio? Devo andare a farlo, poi devo tornare di nuovo anche a ritirare il referto. Stessa cosa per l'alter cardiaco e l'alter pressorio, sono tutti servizi che trovate comodamente nelle vostre farmacie. Un altro servizio molto importante è quello delle CAD. Molti nella nostra zona ma non solo nelle nostre zone sono rimaste senza medici di base e quindi cosa si fa? Non è che si possono pagare sempre tutte le medicine e anche perché ci sono medicine dove noi non possiamo vendere medicine senza ricetta per cui è importante avere sempre il parere del medico e la visita medica. Rivolgetevi al vostro farmacista che tramite il servizio CAD che vuol dire prenotare un medico che ha dato delle ore a disposizione in più extra al proprio lavoro proprio a disposizione di quei pazienti che sono rimasti senza medici di base per cui anche la persona che non può usufruire del suo medico di base perché è momentaneamente assente può rivolgersi praticamente al servizio di CAD. E per ultimo ma non ultimo anche il servizio di prenotazione delle visite, visite specialistiche basta avere un'impegnativa fatta dal vostro medico di base e in farmacia vi possiamo prenotare le visite nelle posizioni o negli orari che vi fanno più comodi e cercare di accorciarvi la lista d'attesa. Ultimamente si è divulgato e si sta divulgando molto prepotentemente un servizio che a me sembra molto molto importante che è il famoso deblistering. Cosa significa? Significa semplicemente che non ho più le scatolette dei farmaci a casa ma io posso deblisterare tramite comunque un operatore sanitario che conferma la mia terapia ed avere praticamente tutto distribuito ad hoc per la mia persona. Vi faccio un esempio. Allora invece di ritirare in farmacia il sacchetto delle mie medicine che io sono, posso essere un paziente cronico dove prendo costantemente la pastiglia della pressione, prendo costantemente la pastiglia per il diabete, poi ho l'anticoagulante, poi ho il protettore dello stomaco, mi porto a casa comunque borse di farmaci e a volte il farmacista cosa fa? Vi aiuta e vi scrive sulla scatola, vi fa un elenco, vi aiuta questo dopo pranzo, questo prima, mi raccomando, lontano, un'ora prima, ok. Il servizio deblistering elimina tutte queste difficoltà e favorisce l'aderenza terapeutica. Pensate a quanto spreco c'è per una persona che deve fare una terapia cronica e non la segue. Il vantaggio è avere un'aderenza terapeutica dove io consegno semplicemente un rotore di questo tipo, adesso è tondo, può essere quadrato, dove è distribuito sull'arco della settimana i sette giorni. Ogni giorno è diviso in mattina, pranzo, cena e notturno, vengono inserite in questi rotori che sono appunto i blister di cui parlavo prima, i farmaci di cui avete necessità e voi a casa non fate altro che consumarne uno a settimana. È molto comodo e pratico non solo per la persona anziana perché comunque penso anche alla persona più giovane che si deve portare dietro, non so, la pastiglia della pressione che devo prendere a pranzo oppure la pastiglia del protettore dello stomaco. Vado in ufficio, metto il mio rotore sulla scrivania, so sempre se l'ho preso o no perché se ho bucato e devuoto vuol dire che la pastiglia se manca io l'ho deglutita. Non incorro in errori di prendere terapia doppia ma nemmeno di saltare le terapie. L'aderenza terapeutica è molto molto importante perché è inutile prendere cure e poi non raggiungere l'obiettivo. Sono tutti servizi nuovi che possono darvi le vostre farmacie. Consultatevi anche col vostro medico di base perché sono servizi che vengono fatti in stretta collaborazione tra farmacista e medico. Arrivederci e buona serata.